Una scelta che la Toscana 235 anni fa ha fatto in modo molto coraggioso e ancora oggi ci sono molti paesi che la mantengono talvolta anche convintamente nonostante i dati anche empirici dimostrino che non ha una efficacia deterrente pari a quella che ci si aspetta. Quindi è una scelta di civiltà che ancora molti stati devono compiere e la Toscana da questo punto di vista è stata un'apripista importantissima.